Gira il tuo sguardo lontano e spostati più in là dove puoi sentire il mio calore e spostati più in là dove il tempo asserbe un fiore eterno e spostati al centro del mondo per fare ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. ... su cui i ragazzi hanno lavorato per diversi giorni e che comunque ora gli organizzatori cosa del cosiddetto crescimento vogliono spiegare. Chiamo qui Luca Pastore, Giuliano Sanerno e Marco Cicoli. ... su cui i ragazzi hanno lavorato per diversi giorni e che comunque non si chiama. ... su cui i ragazzi hanno lavorato per diversi giorni e che comunque non si chiama. ... su cui i ragazzi hanno lavorato per diversi giorni e che magari non si chiama. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti